In una lettera scritta in data 20 dicembre del 1910 al Padre Benedetto da San Marco in Lamis, Padre Pio scrive quanto segue. Mio carissimo Padre, avvicinandosi il Santo Natale, un obbligo di coscienza par che mi impone di non farlo passare senza augurarglielo pieno di tutte quelle celesti consolazioni che il suo cuore desidera. Sebbene in ogni tempo io abbia pregato per lì, che fu e sarà la persona da me tanto amata in questi giorni, però non mancherò ancora di raddoppiare le mie preghiere al celeste bambino affinché voglia regnarsi di preservarla in questo mondo da ogni disgrazia, massimamente dalla disgrazia di perdere Gesù bambino. La mia malsalute eseguita il suo corso con i suoi alti e bassi. Soffro, vero, soffro assai, ma son lietissimo perché anche in mezzo al soffrire non cessa il Signore di farmi sentire una gioia inesprimibile. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.